Ormai il PD è diviso in categorie dello spirito, non si sa neanche con chi parlare, quindi vedremo di fare una convention con le 12 correnti del PD, scherzi a parmi, non mi interessa, poi non so se Renzi sta sciando, come ha detto, cosa che gli auguro, però vabbè, per Camera e Senato sarà nostro dovere ascoltare tutti e incontrare tutti, quello è un dovere istituzionale, non penso a maggioranze politiche che abbiano il PD alleato del centrodestra, mi sembra evidente. Non mi intrometto nelle traversie, nei problemi altrui, li guardo con rispetto, li seguo con rispetto, non mi sono mai piaciuti quelli che scendono dal carro, appena il carro smette di essere quello del vincitore, quindi lo dico essendo lontano anni luce dal modo di far politica di Renzi, però quelli che mi stanno meno simpatici pure di lui sono quelli che lo esaltavano fino a ieri e sono pronti a defenestrarlo oggi. Però non lo so, ma non ho neanche capito quanti sono, cosa fanno, cosa vogliono. Spero che siano a disposizione per dare una via d'uscita al Paese, a prescindere da chi verrà nominato, primarie, non lo so, non ho capito, visto che hanno trovato il bomber calenda come nuovo iscritto. Se tutti dicono che al centro c'è il lavoro, noi riteniamo che sul tema del lavoro il programma del centrodestra e della Lega abbia degli argomenti e delle proposte assolutamente concrete, interessanti e realizzabili. Poi vediamo se sono solo parole.